Sono i migranti che alloggiano qui all'albergo Galileo Palace, a quanto pare gli unici ad aver sentito nitidamente delle voci straniere ci raccontano e poi un'esplosione. Questo è quanto accaduto alla filiale di Rigutino di Banca Etruria, intorno alle 4.30 del mattino è stato fatto esplodere il bancomat esterno che vedete alle mie spalle, poi i malviventi si sono introdotti all'interno della filiale per prelevare il denaro. Per far saltare lo sportello del bancomat pare sia stata utilizzata polvere pirica, un piede di porco invece è stato usato per forzare la parte che non si era staccata e la porta della filiale. I malviventi si sono poi dileguati in fretta e furia, tanto che all'arrivo della telecontrol dei carabinieri alcune banconote erano sparse per terra. Le indagini da parte dei militari sono già iniziate, forse potranno essere utili le immagini della videosorveglianza che potrebbero rivelare qualcosa in più sugli autori del gesto, pare abbiano operato con il volto travisato.